Una provincia verde, Lecco, insieme a Como, è il territorio lombardo a più alto tasso di boscosità. Gli alberi infatti regnano sul 47% dal territorio provinciale. Un dato da tenere presente che emerge dall'ultimo rapporto sulle foreste lombarde, curato da Ersaf, l'organismo che si occupa della cura e della tutela delle aree boschive. I dati in dettaglio, il bosco in provincia di Lecco occupa 38.450 ettari. Oltre 10.000 sono regno dei faggi, seguono i castagnetti, mentre le pinette crescono solo su 15 ettari. Gran parte delle aree boschive lecchesi non ha alcuna funzione. Oltre 25.000 ettari si trovano di fatto allo stato brado, non sono sfruttati in un alcun modo né a fini produttivi né a scopi turistici. Diverse le ragioni, una su tutte è il fatto che l'83% delle aree boschive lecchesi si trova in una zona soggetta a vincolo idrogeologico. E sempre in tema di vincoli, 14.000 ettari di bosco sono tutelati da un punto di vista paesaggistico. Il maggior nemico è senza dubbio il fuoco. 11 gli incendi che si sono verificati nella nostra provincia nel 2018. Le infiamme hanno mandato in fumo complessivamente 36 ettari di bosco. C'è una filiera produttiva legata al mantenimento che non riguarda esclusivamente il taglio di legna d'ardere. All'ecco le imprese sono 23 e danno lavoro a 37 addetti. Tre gli infortuni purtroppo occorsi nel 2018. Infine alcune note positive. Il rapporto di Ersaf evidenzia come ormai si sia attenuato l'impatto del cinipide, galligeno, del castagno, mosca orientale che anni fa aveva praticamente azzerato la produzione del frutto nella Brianza Lecchese. Altro dato il ritorno dei grandi carnivori. All'orso avvistato qualche anno fa anche fra lago e Vassassina, oggi si somma il lupo. Un branco è censito fra l'altorario e la Svizzera.